Vediamo i manifesti dell'MPA, vediamo i manifesti del PD, tutti dicono rompiamo con il passato, la domanda viene spontanea, siete stati a governare fino a una settimana fa, cosa volete rompere con il passato, se il passato siete voi stessi? Allora vedete un senso da un lato di rabbia e da un altro lato di ribellione, i fondi europei per lo sviluppo regionale